Allora salve signori miei, siamo qui di nuovo con Nap di Merda E questa volta la nostra cartella merda è stata popolata da altre due applicazioni Si tratta di Kung Fu Treddy e Christmas Football Allora, il gioco, musica fastidiosa, senza neanche l'immersive mode perché sono dei pezzenti Possiamo scegliere che squadra essere e cerchiamo l'Italia, eccola lì L'Italia quanto le prendiamo? Non sembra neanche brutto, sono fuori questa bar bianca del cazzo Ok, attenzione, siamo tipo dei bambini tutti rossi, quanto dei bambini tutti biondi Allora, pass, passacce profondità, print! Abbiamo già perso Iniziamo, vediamo il run in T a 10 frame Eccoli, eccoli, eccoli Cioè, quello, quello era un tiro, secondo loro, quel motione mozzarellaccio Kick subito, kick subito, kick subito, dai, nonno Finisci in calcio d'angolo No, non c'hai calcio d'angolo Grande parata Ma che... Snatch, il tiro, la parata, no, no Ma yes, cosa? Chi è caricato? Ma basta tirare le mozzarelle Lo sprint, la palla presa Cosa cazzo è successo? Ma cosa sta facendo quel tizio? Ma cosa sta facendo? È illegale una partita del genere Questo qua era già in fuorigioco, era già in fuorigioco Attenzione, davanti al portiere, può fregarlo, può fregarlo Cosa è successo? Vabbè, basta Che non fai un 3D Ricopre i gattini Cosa? Attenzione, prova un calcio, ho speso per terra, merdaccia, fai schifo Attenzione, ci va di prepotenza, lo metto al muro Spamma i calci, vince, merda Sto a spammare i calci Quando state perdendo voi spammate i calci Di nuovo a terra, eh, sedina Ma basta Compra i bambini grassi Compra i bambini grassi Compra i bambini grassi